E' il terzo video della serata Dio cane, cosa ne pensate? Porco Dio, non trovo... Siamo buttati un bastardo La memoria esce fuori dal telefono Ma c'è tu 3 giga porco Dio Madonna C'è il mondo c'è, guarda e tu vi estimi, come cazzo è? Sti cazzo Sti cazzo Ma porco Dio C'è uno che deve fare porco Dio Ma hanno già i santi in croce però, eh Regolare Porco Dio Come guardiamo il culo di questo? Che stiamo facendo ora? Stiamo andando da? Da? Ciccio Dio fa la nebbia E la guardano la trebbia Non ho capito bene la via... E Gesù la sbaglia? La via stima La Madonna è la scandaglia porco Dio Porco Dio Siamo fatti riconoscendo La mannata? La mannata? La bomba con la merda La bomba con la merda Guarda quanta gente Dio, carate che belli porco Dio Il parchimetro Ma cazzo va quello porco Dio che sta... Ma quanto è distante questo barciccio? Sarà un po' di metri Un po' di metri abbastanza Porco Dio Oh Non sta bravo questa madonna Che le fare male e... E guidà Cosa ne pensa? Ehi Cosa ne pensa? Ehi Come si fa? Si dice? No C'è Dio? Chi ha cancciutato porco Dio? C'è sta un po' di ricerca La nostra fontana Si mira video porco Dio Che te prego è incrociato no? Adesso passiamo in mezzo alla piazza Che si sente un profumo strano Per rivolare 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 C'è ma da te se te manda su YouTube A morire Almeno il nostro è un video fatto col cuore E anche col culo Porco Dio Il video fatto nel culo Non ha capito? La madonna è rotta in culo Anche Pure quello Questo è pesante Guarda che sta mandando un messaggio Perché la gente non si accorgia che si riprende Sto mandando Cioè la gente non si accorgia Come si possiamo riprendere qua Sto mandando un messaggio porco Dio Cosa ne pensa porco Dio? Coddio sta mandando un messaggio due ore Con questo cellulare porco Dio dritto Sembra handicappato Messaggio che si traduce in In video Amatore porco Dio Amatore da 6 ore Amatore da 6 ore Ma qui sarebbe bello porco Dio Anzi no Ma qui è caro Ma qui è caro Ma qui è caro Ma dai no Ma perché devi via stimare Fai via questo Ma da managgere il clero porco Dio Pronto? Ecco non ci metto le servono per qui Cosa Cosa Forse si vede la luce porco Dio Forca Madonna Che spettacolo Cazzo che sa la gente Magari Io voglio fare una chiamata con flash Ma insomma la i lampioni ci stanno eh Andiamo là Alla sono a fare orgie Quante persone? 24 La gang bangers No 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 Dica qua Ma che hai i sigari? Vai Porco Dio ma fumo le sigaretze dell'Aribu Regolato Aribu Bella Questa è il cane di Carabinieri Di Cariccio de Castegna Porco Dio Io li chiamo Tritolo perchè Una volta li zompatenaria qua Beh Porco Dio Chi è? Chi paga? Te? No Io faccio pinta Che cazzo ci sono via? Porco Dio è uno sigaret Uno però Quanto costa un sigaret? Portaglio la sigaret Aspetta un attimo quante ci stanno Non ci stanno Vediamo qui il distributore dei preservativi vari Eccoli i preservativi porco Dio Questa è una sua sigaretze in merda Porco Dio se metti un preservativo di questo ti è incinta sicura Un sigaret Metto in pausa Arri eccoci cari ragazzi Allora era voluto il fatto che andavamo in tabbaccheria In realtà il Porco Dio non ti vedi però è tutto buio qua Ma che succede? E' un blackout Ma al cinema sta la luce porco Dio Guardano uno scherzo E' un blackout per farlo Sicuramente certo E' un blackout per farlo mettere l'ordine Ma secondo te è un blackout Regolare? Sicuramente Aspetta Per tutti i nostri ascoltatori Quit malè E se vi state rispondendo E' sto cazzo Diglielo un po' A tutti i video ascoltatori porco Dio Questo ragazzo vi estimo un po' troppo se prendete Ragazzi Ottica Moretto eh Porco Dio però mi aspettavo E per tutti quelli che dicono E' sto cazzo Di qualcosa ai nostri amici Caffè là Eh? Sto cazzo Porco Dio Pesante Dio merda Lascio messaggiare le nostre amiche di Messenger Ma... Le fate le pompe a squarciagone Ahahah Dio cazzo? Le pompe col mascarpone come le fa Trimbols Porco Dio Guarda Non mettere in mezzo la vasella Senza vasella porco Dio No è vero senza vasella Adesso nemmo appiazzo il topolo Porco Dio ma quanto dura? Dure 59 minuti Madonna Comunque cosa che Roberto c'è al culo depilato Ma solo porco Dio Cioè i diccioletti che mi escono dalla cappella Non lo so porco Dio Ti metti i cotonzetti al culo Pannaggia ai santi Tu fatti una tipo di arrasata visto che sei lì No porco Dio Le pompe cipollate aspetta Si fanno una arrasata a vola Eh fanno una arrasata intanto io mangiamo un gelato con la sbabbò nocciolata Vediamo le scarpe Facciate parco Dio ha arrascogliato il suo giallo Vediamo mentre carica la batteria al suo rasoio Porco Dio Porco Dio vediamo il cipollone di questo ombrello Eh che bello il tuo porco Porco Dio Aspetta eh Che sei bello Vieni Dio carico Vieni Dio carico Vieni Dio Vai Vediamo che si fa la barba Eh ma si sente Puoi un po' al sedere? Porco Dio Eh per cosa mi cangi? Fatto Che spettacolare porco Dio Come lo mandi? Eh ma insomma di sotto fa la barba Quante canti? Insomma c'è lo stesso la barba Dai più forte lui Tu guarda questi che belli Facciamo vedere questi vecchi porco Dio Buonasera Mannaggia alla Madonna Passano Ma ecco Porco Dio sarei belli porco Dio Beh si capricendo Ecco le mogli porco Dio Siamo con Mari Se noi incontrammo Smut Porco Dio c'è domani Questa è la piazza di Latina Guardate quant'è bella Aspetta eh Se tu incontri Smut che ci fai? Che ci lo fa? C'è meno Bravo Se bisogna davanti le vecchie però porco Dio Mannaggia alla Madonna Guarda che bella sta piazza La piazza di Latina Questa è piazza del popolo Si dice che sia bella ma io ancora devo trovare qualche pregio Qua Qua Si dice che sia Sia del popolo Ma in realtà è del Del sindaco Del sindaco Del sindaco Stiamo sotto Buonasera Del sindaco Del sindaco Non è mai coriccio le castiglie Ma cosa ne pensate questa piazza porco Dio Questa è l'edicolo di Ocane Questa è bella porco Dio Guarda Giornaletti porno Giornaletti porno Giornaletti porno Giornaletti porno Tutto spiano Qua si si fa? Ecco capricci anali Capricci anali Capricci anali Capricci anali Porco Dio Basta la roba porno Qua di vero la mitica biblioteca Mettiamo in pausa Amici ascoltatori Rieccoci col video Porco Dio o la madonna Siccome questo abita in una via che tutti sappiamo Ma ti sei fatto Alessandra per caso? Porco Dio rega dai Ho detto te no Quali i cazzi vostri Zitto Perché chi la vede? Chi lo vede? Che ne so? Vaffanculo te no porco Dio Cioè Te lo piace il culo da? Stanno ridicando in diretta Vessi il culo da questa pasta porco Dio Stanno terminando Ma noi stiamo parlando Noi stiamo parlando Noi stiamo parlando D'Alessandra a Hamalahara Hamalahara Per non accade in dettagli Che la gente che dice che sto io Scusate Ma noi c'erano due D'Alessandra Stiamo parlando D'Alessandra La femmina di tutto Scusate voi Sì, guarda, 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 guarda. Che è successo? Cosa ne pensate delle femmine di Latina? Qualche bella figa estrebbe, però se la tirano da dopo. E' una femmina che deve essere più sciolta secondo me. Questo video durerà mezz'ora. Chi che se lo vede io, porco Dio. Cioè, la dovrebbe dare con un stile, con rispetto. Fa un po', porco, devi fare quell'idea.